Per migliorare la pulizia e il decoro della città non è solo necessario un servizio rifiuti efficiente, ma anche un drastico mutamento dei comportamenti dei cittadini. Marco Diddio, cittadino che in questi giorni, percorrendo il litorale, ha raccolto nell'arco di poche ore circa una sessantina di bottiglie di plastica e lattine abbandonate da avventori e bagnanti, continua la sua opera di sensibilizzazione, cercando di lanciare messaggi concreti. Questo è il risultato di un comportamento che a mio avviso risulta incivile, purtroppo lo devo dire, perché accanto a tanta gente che si impegna, che lavora, c'è tanta gente che ancora continuamente sporca. Poi è facile dire che le spiagge sono sporche, le spiagge sono sporche ma da sole non si sporcano, perché evidentemente c'è qualcuno che le sporca. Trovare ogni giorno e dovunque lattine, involucri di biscotti, caramelle, ma poi bottiglie sparse dovunque di ogni tipo e di ogni genere, non è certamente una cosa bella da vedere, cioè è un danno per il decoro della città. Attribuire responsabilità di mancato non sufficiente pulizia solo ad un ente incaricato della raccolta dei rifiuti urbani risulta comunque fin troppo semplice. Percorrendo le diverse vie della città si scorge dunque la presenza di centinaia di bottiglie e lattine che deturpano l'ambiente, lasciate da chi magari ha trascorso serate allegre in compagnia di amici. Gli impianti può fare tutto quello che vuoi, gli operatori lavorano tantissimo, ma se la gente sporca il doppio il tipo di quello che deve sporcare e continua a farlo, l'ente può arrivare dove può. È chiaro che poi ci vuole una forza lavoro maggiore, quindi i comportamenti singoli devono fare la differenza. Se io ho un comportamento civile e aiuto l'ambiente, aiuto a non sporcare, sicuramente l'ente ne gioverà e potrà fare un lavoro migliore. Il vero cambiamento parte dai singoli. Pretendere di avere un paese pulito senza rispetto delle più elementari regole di igiene equivale ad addossare colpe con estrema superficialità a chi si alza ogni giorno molto presto per svolgere al meglio un lavoro delicato e complesso. Si sporca troppo e ciò non aiuta la città ad uscire dalla situazione di degrado. I cestini ci sono e ce ne sono pure tanti. Il problema è che molti ragazzi non vengono educati a fare magari un metro per lasciare la bottiglietta o la lattina dove hanno consumato il proprio pasto o dopo una serata allegra. Tra l'altro c'era pure molto vetro, queste bottiglie di vetro che inquinano molto l'ambiente. Quindi c'è veramente un problema. Il servizio sociale è anche questo. Il servizio sociale non è solo assistenza a anziani, disabili, ma anche dare all'ambiente decoro affinché il bambino, l'anziano e il disabile possano stare in luoghi tranquilli e igienicamente sani. Marco più volte si è recato in diverse zone della città per pulire e raccogliere i rifiuti abbandonati, ma anche per accendere i riflettori su servizi delle collettività lasciate al loro destino. Il bagno della villa, io mi sono battuto per la bellezza di 11 mesi su questa tematica. Io spero che questi bagni prima o poi vengano aperti perché gli anziani hanno problemi spesso di incontinenza a livello vescicale. Parliamo di un aspetto anche igienico-sanitario. Quindi non possiamo lasciarli da soli. Io chiedo veramente, faccio appello al sindaco, ma a tutta l'amministrazione, affinché questi bagni che sono nuovi, ristrutturati, quelli maschili, vengano riaperti e quelli femminili, laddove c'è ancora da ristrutturare, venga questa ristrutturazione fatta al più presto.